Se mi vedete uguale è semplicemente perché sto registrando i video uno dopo l'altro rispetto a quello sui fake crypto exchange. Oggi di cosa parliamo? Fake crypto wallet, fake app, come riconoscerli e soprattutto come cercare di evitarli possibilmente. Buonasera a tutti ragazzi e ragazzo buongiorno dipende da quale parte del mondo mi seguite bentornati su club 6 crypto io sono mg mattia e siamo tornati con la rubrica crypto warning format fondamentale. Secondo me format importantissimo per cercare di responsabilizzare per cercare di dare informazione per cercare di informare le persone in generale nel mondo crypto perché come ho detto come ho detto anche nel video precedente è un mondo in espansione è un mondo nuovo è un mondo ancora giovane di conseguenza va esplorato. Ok tutto va preso con le pinze perché proprio che è giovane proprio perché in espansione di scammer i truffatori veramente ci nuotano tipo pesci dentro l'acquario quindi mi raccomando è fondamentale se ti interessa se ti piace la rubrica lascia un mi piace fammelo sapere con un commento fammi sapere quello che ti interessa ne parleremo sicuramente tanto abbiamo tanto di cui parlare e ovviamente condividi. Quindi colgo l'occasione per ricordarti se non sei iscritto al canale fallo lascia un mi piace commenta e condividi ora vediamo effettivamente che cosa sono le fake app e i fake crypto wallet rubrica anche questa volta crypto truffe fake wallet vediamo che cosa sono allora i truffatori utilizzano app criptografiche per rubare i soldi agli investitori. Ok molto semplice è semplicissima come cosa ok considerato che questo è un mondo in espansione è un mondo ancora giovane è un mondo in cui non tutte le persone che sono all'interno sono informate. Ovviamente gli scammeri truffatori cercano i polli che vanno lì installano le installano le applicazioni fake installano i fake wallet ok i portafogli falsi le false applicazioni crypto per rubare i soldi semplicissimo. Sono state scoperte all'incirca 250 false app di wallet 250 ok uno per ogni grande crypto wallet. I criminali tentano di rubare fondi inducendo la vittima a scaricare app dannose come abbiamo detto quindi ti inducono tramite dei modi che vedremo successivamente a scaricare queste app queste app ovviamente inutile dire che sono fasulle e portano inevitabilmente alla perdita dei due soldi e non solo portano anche l'hacker in questo caso o lo scammer ad avere i tuoi dati. Ok che è pessimo sono stati scoperti tra l'altro oltre 40 siti web falsi ovviamente fake che sono stati progettati proprio per essere simili a quelli ufficiali ne abbiamo parlato anche nella video dedicato al phishing a questa cosa ok diciamo che tutto è un po collegato sono delle piccole ramificazioni poi no? ma inducono a scaricare proprio questi siti tramite determinate tecniche in parte molte le abbiamo viste nel phishing inducono proprio a scaricare app con dei malware ok con dei virus una volta entrati nel telefono o nel computer o nel tablet o dove lo scaricate nel dispositivo sono cavoli sono cavoli proprio. è una truffa molto diffusa come abbiamo detto parliamo di oltre 250 applicazioni false ritrovate rilevate comunque esistono versioni fake di tutti i grandi wallet ok di tutte le grandi app e le vittime sono ovviamente da parte di tutto il mondo eccoli qui qui possiamo vedere in questo diagramma torta possiamo vedere che esistono effettivamente il 4% fake trust wallet 9% fake token pocket eccetera 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 quindi ne esistono veramente veramente tante. le app sono progettate per raccogliere le credenziali dell'utente per poi sbloccare gli account sulle piattaforme ufficiali quindi che loro che cosa fanno e tu scarichi l'applicazione dai la tua seed phrase dai la tua password dai le tue credenziali e loro automaticamente essendo fake prendono i dati che tu gli hai dato e entrano nell'applicazione ufficiale ok? ed è questo è un problema perché poi hanno accesso ai tuoi dati quindi attenzione come funziona inducono la vittima a scaricare l'applicazione falsa attraverso cosa? attraverso sms email ovviamente inviano messaggi con collegamenti a download con dei link ok che sono malevoli in genere affermano che che cosa che cosa dicono per farti scaricare l'applicazione guarda la tua app non è aggiornata l'app che tu hai in questo momento non è aggiornata scarica l'applicazione attraverso questo link per avere l'app aggiornata ok oppure ti dicono l'app non è aggiornata di conseguenza potresti avere dei problemi con non lo so l'accesso dei problemi con la sicurezza ok si inventano la qualunque quindi se ti arriva un messaggio innanzitutto una mail o un sms controlla sempre da dove ti arrivano questo l'abbiamo già detto quindi ti dicono guarda devi scaricare l'applicazione attraverso questo link così almeno sei sicuro di averla aggiornata questo è il primo modo attraverso siti web falsi questo l'abbiamo già detto sono versioni false di siti web attendibili ok quindi ad esempio versioni falsi di siti web che realmente esistono che di applicazioni che realmente sono funzionali di reali ok e questi sono siti web falsi che anche qui condominio simile sempre legati alle tecniche di phishing condominio simile ti portano a questo sito perché magari sbagli a scrivere o mille altre tramite link o mille altri modi loro che cosa fanno attraverso questo sito ti dicono guarda scarica l'app tramite questo link eccetera e ovviamente l'app è dannosa tramite messaggi di supporto questo ad esempio avviene nelle community possono essere community telegram facebook eccetera ti dice guarda io sono un lavoro per binance ok no diciamo lavoro per trust wallet ok lavoro per trust wallet sono del supporto tecnico ok c'è di a questo link per x motivi questo è facilissimo trovarlo attraverso nelle community ok community ufficiali eccetera 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 quindi mi raccomando attenzione a questa cosa perché poi questo ti danno il link ti porta al sito web e ti fa scaricare l'applicazione tramite il servizio telefonico perché i truffatori si si presentano proprio ti chiamano e ti dicono guarda sono rappresentante di tal dei tali un po' come il crypto exchange fake che abbiamo visto visto si presentano guarda sono il rappresentante di x y z installa l'applicazione eccetera ormai il procedimento già lo sappiamo alcuni il peggio è che alcuni anche attraverso app store poi dopo questo lo vedremo eccolo qui che vuol dire app store c'è gli app store ufficiali e anche google play o app store vi rendete conto questo come fanno si è semplice eccolo qui si registrano come sviluppatori popolari su popolari apple store cioè su popolari app store quindi ad esempio apple store google play eccetera eccetera semplicemente creano l'app creano l'app fake la mettono la mettono e la mettono avendo il logo avendo la scritta molto simile praticamente identica all'app ufficiale poi dopo ovviamente verso la fine del video l'ultima parte vedremo come cercare di non cadere nelle trappole ok le vetti le vittime per accedere una volta che hanno scaricato l'applicazione sono obbligate ad inviare la seed phrase ok queste abbiamo detto proprio nel primo video la cosa che non va affatto è dare la tua seed phrase quello non la devi dare a nessuno a nessuno ok una volta che hanno fatto breccia all'interno della tua sicurezza tramite l'applicazione tutto ciò che vogliono è la frase mnemonica la seed phrase ciò cosa consente consente gli hacker ad avere accesso al tuo wallet lo abbiamo già detto loro prendono i tuoi dati e accedono all'app ufficiale trasferire tutti i tuoi fondi nel loro portafoglio ma attraverso cosa attraverso portafogli usaggetta e qua ti ho messo effettivamente il grafico proprio c'è il vittima address ovvero l'indirizzo della vittima poi ci sono tutti gli indirizzi intermedi quindi 2000 portafogli usaggetta e poi c'è effettivamente quello dello scammer ok quindi è difficile anche rintracciarli ovviamente quindi attenzione a non dare mai e poi mai la tua seed phrase ora passiamo alla parte che ci interessa ovvero quella che realmente istruisce come riconoscere le fake app perché anche in italia questo è un fenomeno molto diffuso ortografia descrizione icone che cosa vuol dire le app false normalmente hanno nome icona simili a quelle ufficiali ma differiscono per una micro cosa ok quindi mi raccomando o è il nome dell'app o lo nome dello sviluppatore scritto male o il nome dell'app è scritto male o il logo è un po' strano quindi attenzione una cosa fondamentale è osservare il badge di google ok su google play ad esempio c'è il badge che ti dice guarda obbligazione ufficiale garantita da google su quelle vai sul sicuro ok poi attenzione alle autorizzazioni perché normalmente le app fake le app finte le app false quelle che vogliono scammarti quello che vogliono truffarti chiedono più autorizzazioni del necessario perché ovviamente tu dando accesso 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 loro hanno il via libera in tutti i tuoi dati in tutti i dati che possiede all'interno del dispositivo quindi se vedi che questi stanno iniziando a chiedere troppe autorizzazioni attenzione campanello d'allarme perché stanno chiedendo così tante informazioni che cosa vogliono no ok attenzione a questa cosa terzo il download questo è basilare se un'applicazione se andate a scaricare trust wallet e c'è mille download ovviamente quella sarà un'applicazione fake ok le app con poche migliaia di download sono fake ed è normale quindi attenzione osservate sempre in primis ovviamente tutti i commenti tutte le recensioni e poi anche il numero di download perché più i download sono bassi più si tratta di un'applicazione fake ultima cosa contatta l'assistenza ok contatta l'assistenza tramite il sito web ufficiale magari vai nel sito web ufficiale e gli dici voglio scaricare questa applicazione qui è la vostra oppure qual è la vostra applicazione punto di domanda e loro ti risponderanno magari ti daranno il link effettivo con l'applicazione reale quindi attenzione anzi ultima cosa la aggiungo io ora come nell'altro video cerca su internet il nome dell'applicazione fake app ok così ti dirà quali sono la lista delle applicazioni fake che esistono mi raccomando evita di farti scammare così da pollo per favore detto questo spero che il video ti sia piaciuto e soprattutto ti sia stato utile ti ricordo se non sei iscritto al canale fallo lascia un mi piace commento e condividi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao